Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vogliamo offrire un servizio soprattutto familiare, dare la possibilità di sentirsi a casa, in un ambiente armonioso, accogliente, dignitoso e far sentire le persone a proprio agio in una situazione così particolare. L'amministrazione di Ipolicoro accoglie con grande favore questa iniziativa. La Casa del Commiato sarà sicuramente un servizio importante per la cittadinanza, che ha sempre esigenze più consistenti, sia di comodità, di praticità, sia di modernità. La Sala del Commiato, l'ultimo miglio, è un luogo importante per questa comunità Ipolicoro. Innanzitutto perché c'è un luogo dove può riposare, anche se per un istante, il nostro caro e i nostri cari. E la famiglia può esprimere nella calma, nel silenzio, il proprio dolore, la propria sofferenza, il proprio pianto. Sono elementi umani, è importante viverli, però sempre con l'ottio e la speranza nella risurrezione. Ecco, quella gioia che non è l'allegrezza, ma è sentire veramente la presenza del Signore. Anche le immagini sacre che ci sono in questo luogo devono aiutare a cortivare questa speranza. Però che è importante che ci siano questi luoghi per veramente far sostare la famiglia, i propri cari, in questo momento di trapasso, ma soprattutto in questo momento di dolore e di sofferenza. Saremo presenti qui per tutto il tempo della vostra permanenza, per seguirvi, assistervi e colmare le vostre richieste. Saremo presenti qui per tutto il tempo,